L'Atferno vince la gara con il Monte Spaccato al termine di una gara largamente dovinata e sofferta solo nel finale e dopo il gol degli avversari. Dopo la vittoria dunque di Pomezzi alla Tiferno 1919 torna a giocare tra le muramiche affrontando un avversario ostico come il Monte Spaccato che in classifica si trova avanti di due punti. Tifernati comunque decisi a dare seguito alle vittorie. Si gioca in una bella giornata allo stadio comunale di Bernicchi con un discreto pubblico in tribuna. Dirige Nicolò Dorillo della sezione di Torino con Mattia Piccini di Ancona e Dalit Singh di Macerata. Tiferno con la classica casacca bianco-rossa schiera un 4-2-3-1, Monte Spaccato in quella azzurra schiera un 4-3-3. Avvio di gara privo di emozioni ma con supremazia territoriale dei padroni di casa all'ottavo minuto però la Tiferno rompe l'equilibrio. Ci pensa Mariucci che su tiro dalla bandierina appostato sul secondo palo di piatto destro mette in fondo alla rete. Passano due minuti, è il decimo minuto con la Tiferno che guadagna un calcio di rigore per atterramento di Ruggeri in area appunto di rigore. Dal dischetto va Calderini che fa 2-0. Partita che sembra chiusa anche perché la Tiferno pare controllare bene la flebile reazione degli avversari. Anzi al 39esimo una punizione di Gorini dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta per poi finire sul fondo che complice una leggera deviazione. Fa guadagnare il terzo caggio l'angolo per i Tifernati. Di lì è poco arriva la fine del primo tempo con la Tiferno avanti per 2-0. La ripresa inizia con le due squadre che confermano gli stessi effettivi del primo tempo ma con lo stesso andamento, cioè i locali in avanti a fare la partita. Cosicché al 15esimo Tassi deve volare per negare il gol a Bagnolo. Al 17esimo Dorado-Santiago fallisce clamorosamente il terzo gol dando solo l'illusione della marcatura. Al 26esimo a sorpresa arriva la prima vera e propria occasione da rete per il Montespaccato che rientra in partita con un gol di Calì che incorna un perfetto cross dalla destra di Bossi mettendo la parla in fondo alla rete. Caricati dai gol i laziali cercano di sfruttare il momento favorevole per poter pareggiare ma la Tiferno non sta a guardare. La sua volta cerca il terzo gol con Bruschi che però inquadra lo specchio della porta. Al 38esimo gli ospiti collezionano la loro seconda occasione con l'entrato De Dominicis che sferra un tiro che attraversa tutto lo specchio della porta per finire poi sul fondo. Al 43esimo protesta degli ospiti per un presunto fallo subito in area da Calì ma con l'arbitro ben accostato che invece dice che è tutto regolare. Al primo minuto di recupero Rossi della Montespaccato incorna un angolo battuto da Bossi. Ma per fortuna della Tiferno manda sopra la traversa. Nel finale convulso ne fanno le spese i due numeri sei delle due squadre Gomez e Ezzetti che vanno anzitempo negli spogliatoi. Ma questa è di fatto l'ultima nota di questa partita perché di lì a poco arriva il triplice fischio dell'arbitro che sanzisce la seconda vittoria consecutiva della Tiferno 1919. Vittoria più che meritata.